Ciao ragazzi e bentornati sul canale di vacanze in Albania.it quest'oggi andiamo a scoprire la spiaggia di Lukova ci vediamo dopo Ciao ragazzi, siamo quasi arrivati a Lukova questo è il tratto finale della strada che dal paese scende verso il mare grazie a tutti grazie a tutti qui iniziano le spiagge di Lukova questa dovrebbe essere la prima nell'ordine ma noi generalmente amiamo spostarci verso quelle più a sinistra più in prossimità degli scogli grazie a tutti come vedete ogni bagno ha il suo parcheggio che generalmente è gratuito se si affitta l'ombrellone con l'esdraio da loro se possibile invertire il senso di marcia siamo arrivati ora cerchiamo parcheggio e ci vediamo dopo siamo allo stabilimento baleare del ristorante Matias Fisch questa è la spiaggia di Lukova grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.